bene carissimi bentornati a un nuovo appuntamento con la catechesi biblica che quest'anno sta approfondendo i libri sapienziali e questa sera ci porterà a fare un viaggio con il coelet o coelet a seconda di come si preferisce l'accentuazione io preferisco dire coelet e così diremo durante questo incontro una volta scorsa abbiamo fatto ricorderete abbiamo visto insieme il libro dei proverbi e ricordando credo che ho raggiunto la volta scorsa che c'era una trilogia così identificata già dai tempi della padristica appunto comprendente il libro dei proverbi e poi appunto il coelet e poi il cantico dei cantici questa trilogia diciamo così è un altro che il diciamo così che il il corrispettivo biblico ecco della triplice distinzione e teologia ascetica dei tre stati della vita spirituale quindi i principianti i proficenti e perfetti quindi quelli che cominciano quelli che ecco il punto snodale è il secondo proprio di questa sera quindi quelli che cominciano a purificarsi un po e quelli poi che cominciano a volare verso la perfezione ma verso la perfezione non si può volare se siamo ancora troppo agganciati alle realtà terrene ecco e il tipo del coelet che è noto no si può diciamo così catalogare con il sottotitolo la vanità del mondo famoso vanità delle vanità tutti lo conoscono ha proprio il compito di provocare ecco nell'anima un certo disgusto delle cose terrene fondamentalmente relativizzando le facendo le vedere nella loro giusta dimensione non come la vedono chiaramente i mondani e i pagani quindi come se fossero le cose più belle o i fini ultimi dell'uomo ma appunto relativi relativizzandone scusate la la portata questo è un po il senso globale di questo di questo di questo libro no ora in latino il coelet si si pronuncia ecclesiaste ecclesiaste e quale ecclesiastico il siracide questo nella versione della della volgata no ecclesiaste che è un termine che deriva dall'ebraico kahal che significa assemblea no quindi un testo rivolto assemblea kahal non è semplicemente un assemblea qualunque quindi l'assemblea dei figli di dio l'assemblea degli eletti diciamo così intendiamo sempre questo termine in chiave biblica non in chiave di altro genere no che questo libro tradizionalmente attribuito a salomone utile dire insomma questa attribuzione dalla moderna esegesi è più da più di qualche parte messa in discussione è strutturato in 12 capitoli e sono fondamentalmente una serie di meditazioni sapienziali come già accennato sul senso della vita e della morte il tema di affrontate sono varie svariate quindi si va dal bene e male si ferma molto sulla vanità del mondo dei piaceri e delle vicchezze c'è il tema importante della ricerca della sapienza c'è il tema dolorosamente focale della inesorabilità della morte e c'è l'importanza del timore di dio prendiamo per esempio il discorso degli si dell'inesorabilità della della morte no uno dei più grandi guai e danni che si possa fare alla nostra anima è omettere di pensare considerare con una certa attenzione il mistero della morte siamo ancora nel mese di novembre nel mese dei defunti questo appunto un tempo un mese in cui occorre a rimeditare un po' sul mistero della morte corporale io sono funerari raccomando le persone di questa tipo se ci fossi tu oggi al posto del del defunto sei pronto che gli racconti al nostro signore stai in grazia stai vivendo secondo la sua volontà che gli racconteresti e poi oltre alla morte c'è l'importanza del timore di dio tema proprio assolutamente sapienziale tipicamente sapienziale questa bellissima disposizione che il timore di dio che non è ho già visto credo la paura o il terrore no però ecco il senso di soggezione riverenziale che porta anche a quel sano e santo timore di offenderlo o di non piacere a lui in qualcosa che è certamente una disposizione ovviamente quando è di questo genere perché nel piano pratico poi scivolare nella paura nel terrore non è che ci vuole un granché per noi poveri peccatori no e lì tutte le cose la virtù diventa difetto perché la virtù rimane tale fino a quando viene usata bene dal dalla persona che c'era quindi abbiamo già accennato che questo è il secondo testo della trilogia verso la santità e quindi il libro che ha il compito di distaccare l'uomo dalla vita terrena dalla sua vanità come abbiamo già fatto per il libro dei proverbi trattandosi qui di catechesi bibliche ora andremo semplicemente a vedere dopo questa brevissima introduzione sommaria alcuni brani scelti gli incontri le catechesi bibliche non si fanno sulle chiacchiere ma si fanno appunto sui brani e sul eventuale poi commento qualcosa che si può dire ai brani qui sto lasciando la slide con i brani scelti che non sono solo questi passiamo nell'ultimo brano l'ultima slide e che andremo adesso speriamo tutti a leggere a meditare insieme cominciando dal club al cult da quello che più o meno tutti conoscono che il primo capitolo che comincia appunto con la famosa espressione vanitas vanitato una vanità delle vanità per chi segue la diretta per un istante che faccio una condivisione esatto del software biblico così potete seguire chi sta seguendo la diretta anche la lettura parole di gueret figlio di david re di gerusalemme vedete in line sia in latino che in greco verba ecclesiastes fili david regisi gerusalemme e remata ecclesiastu cui david basileos israeli di usare quindi l'attribuzione è chiarissima la prima versetto no figlio di davide re di gerusalemme coeret abbiamo già visto che in questo caso uno pseudonimo e varietà delle vanità dice coeret vanità delle vanità tutto è vanità sappiamo che qui c'era anche la famosa filastrocca di di san filippo neri no ma vedete che in ebraico vanità delle vanità e abel abalim a vedere con cursore eccola la traduzione come il significato letterale che c'è l'inglese beniti ma anche futility ma anche breath ma oltre che breath proprio l'etimo l'etimo del termine abel si riferisce appunto a mist e vapor o mer breath cioè mist e nebbia mero respiro quindi sapete come come si dice tra noi mortali no tutto fumo e niente arrosto e bel attenzione che questo stesso termine ci usa per indicare il vizio capitale della della superbia quindi la realtà evanescente quindi l'aria il anebbia il respiro insomma quindi abbiamo visto bene di che cosa si tratta e quindi l'evanescenza la fugacità l'effimeratezza tutto è vanità perché in questa terra è tutto così non c'è niente di stabile e di duraturo questo doveva mettere in testa con attenzione perché questo non vuol dire non vivere più sulla terra ma ma significa vivere in verità relativizzando ciò che la terra è rappresenta e comincia qual'utilità di cavall'uomo da tutto lo fa la fanno per più fatica sotto il sole il lavoro no vedete che si ammazza di lavoro e se neanche vanta ma perché si lavora tanto si lavora per fare soldi per accumulare i soldi poi diventano lo strumento ci si può procacciare qualunque tipo di piacere legato alla vita terrena una generazione va una generazione viene ma la terra resta sempre la stessa il sole sorge il sole tramonta si affretta verso il luogo dove risorgerà il vento soffia a mezzogiorno poi gira tramontana gira rigira e sopra i suoi giri il vento ritorna ancora tutti i fiumi vanno al mare pur il mare non è mai pieno raggiunta la loro meta i fiumi riprendono la loro marcia tutte le cose sono in travaglio e nessuno potrebbe spiegarne il motivo non si sazia l'occhio di guardare né mai l'orecchio è sazio di udire questo qui scende subito a due dei nostri sensi appunto la vista e l'unito spiegando che essi di per sé sono pozzi senza fondi per cui e voglio guardare non sarei mai sazio a voglia di ascoltare non sarai mai contento di quello che hai ascoltato ancora ciò che è stato fatto ciò che è stato sarà e ciò che è fatto si rifarà non c'è niente di nuovo sotto il sole se c'è forse qualcosa di cui ci possa dire guarda questa è una novità proprio questa è già stata nei secoli che ci hanno preceduto non resta più ricordo degli antichi ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso quello che verranno in seguito io Coelet sono stato re di Israele in Gerusalemme mi sono proposto di ricercare e investigare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo occupazione penosa che viene imposta agli uomini perché in essa fatica meno male che Salomone ha faticato perché altrimenti non ci sarebbero arrivate queste perle di saggezza ho visto tutte le cose che si fanno sotto il sole ed ecco tutto è vanità ecco è un inseguire il vento questa è un'altra espressione tipicamente coeletiana si può esprimere così tutto è fumo ho visto no veniti e un inseguire il vento qui abbiamo il verbo la e ruach che è vento è anche soffio è anche alito di vita è anche spirito proprio in senso in senso forte quindi spirito come spirito dell'uomo ma anche come spirito di Dio quindi inseguire il vento bellissime espressioni no? pensavo e dicevo tra me ecco io ho avuto una sapienza superiore più vasta di quella che ebbero quanti regnarono prima di me in Gerusalemme la mia mente ha curato molto la sapienza e la scienza ho deciso allora di conoscere la sapienza e la scienza come anche la stoltezza e la follia ho compreso che anche questo è un seguire il vento perché molta sapienza molto affanno oh chi accresce il sapere aumenta il dolore questo proprio è una frase amici cari da metterci sulla scrivania oppure sopra il letto imposto ben visibile molto sapienza molto affanno chi accresce il sapere aumenta il dolore tanto è vero come sappiamo che una delle dei meccanismi di difesa più diffusa una delle cose più diffuse dagli uomini ma anche tra le più pericolose è io la chiamo la sindrome dello struzzo di mettere la testa sotto la sabbia oppure anche per le persone sagge e sapienti l'abdicazione a usare la saggezza e la sapienza che hanno per formulare delle corrette rappresentazioni della realtà e quindi farci dei personali ecco giudizi delle personali convinzioni certamente fondate in questo modo da seguire e da perseguire ecco questo è il bellissimo primo primo capitolo che cresce il sapere aumenta il dolore perché più sai e più soffri gli esempi di questo insomma si possono moltiplicare a a dismisura no anche invito a farlo con eventi recenti e di stretta attualità chiamiamola così politica e ecclesiale però mi raccomando questo non deve diventare una scusa per non cercare non chiedere la salienza non curare la conoscenza delle cose perché il fatto che siano fuoriere ecco di di sofferenza e di momentanea tribolazione non deve assolutamente distoglierci dal dal praticare anzi si tratta di dolori e affanni molto salutari andiamo un pochino avanti dopo il grande primo capitolo c'è l'inizio del secondo che è importantissimo anche questo quindi non fa niente che proseguiamo ancora la tutela continua che è appunto dedicato alla vanità dei piacere delle ricchezze primi undici versetti del secondo capitolo ho detto in cuor mio vieni dunque ti voglio mettere alla prova con la gioia gusta e piacere ma ecco anche questa è vanità sapete che sono tantissime tantissime persone che hanno identificano la felicità con il godimento di piacere i terreni alcuni lo fanno in maniera esplicita altri lo fanno in maniera implicita cioè non lo dicono ma di fatto tutta quanta la loro vita è un attestazione continua di questo ma questa è vanità perché i piaceri durano poco e svaniscono i piaceri peraltro quando si parla di piacere piacere è qualche cosa che coinvolge cinque sensi non è qualche cosa di più profondo e di più spirituale questo è proprio il mondo della della vanità per antonomasi la cosa è vana quindi è fumosa è inutile quando sinceramente il contatto con quella non non ti riempie del riso ho detto follia della gioia a che giova poi ho voluto soddisfare il mio corpo con il vino con la pretesa di dedicarmi con la mente alla sapienza di termine alla follia finché non scoprissi che cosa convenga agli uomini compiere sotto il cielo nei giorni contati della loro vita ho intrapreso ho intrapreso grandi opere mi sono fabbricato case mi sono piantato vigneti mi sono fatto parchi e giardini e vi ho piantato alberi da frutto di ogni specie mi sono fatto vasche per innigare con l'acqua le piantagioni ho squistato schiavi e schiave e altri non ho avuto i nati in casa e ho posseduto anche armenti e greggi in gran numero più di tutti i miei predecessori in gerusalemme ho accumulato anche argento e oro ricchezze di re e di province mi sono procurato cantori e cantatrici insieme con le delizie dei figli dell'uomo sono divenuto grande e più potente di tutti i miei predecessori in gerusalemme pur conservando la mia sapienza non ho negato ai miei occhi nulla di ciò che abbramavano ne ho rifiutato alcuna soddisfazione al mio cuore che godeva di ogni mia fatica e questa è stata la mia ricompensa di tutte le mie fatiche ho considerato tutte le opere fatte dalle mie mani e tutta la fatica che avevo durato a farle ecco tutto mi è apparso una vanità vedete è un inseguire il vento non c'è alcun vantaggio sotto il sole quindi il tenore del clima anche Coelet così come il libro dei proverbi ho avuto modo di dire è un testo scorrevole abbastanza comprensibile non proprio in tutto al 100% però è un testo che si può leggere specialmente per chi desidera fare un pochino di lettura spirituale o meditazione anche biblica senza avere grandissimi problemi interpretativi ecco quindi che poi ci bloccano e ci paralizzano ma questo che significa ecco ti raccomando sempre specialmente a chi fa la lettura la lettura personale della bibbia e non avventurarsi mai in questioni troppo grandi quando non si capisce qualcosa con la bibbia bisogna fare così cioè quindi per capire improvvisarsi eseggeti o cose di questo genere quanto di più pericoloso ci possa essere perché l'interpretazione della bibbia come sappiamo spetta la chiesa e le interpretazioni autentiche di passi biblici sono stati ben pochi diciamo che c'è però una tradizione abbastanza consolidata di linee di lettura certamente quando uno si approccia al testo biblico qualcuna di queste cose è bene che le sappia o quantomeno è bene che ci abbia come nel mio caso diverse reminiscenze provenienti dalla lettura di di fonti appunto ermeneutiche di interpretazione sui brani della saga scrittura quindi visto che anche il secondo capitolo è di una semplicità disarmante per cui non conta troppo il commento quanto appunto forse lo stesso ora c'è una sezione sempre al secondo capitolo dedicato alla alle ingiustizie sociali più più in generale diciamo così alla vanità del mondo connesso con l'ordinarietà diciamo così della vita mondana no? vediamo di leggere insieme 2.17 ho preso in odio la vita perché mi ha sgradito quanto si fa sotto il sole ogni fatti ogni cosa infatti è vanità ogni inseguire il vento ho preso in odio ogni lavoro da me fatto sotto il sole perché dovrò lasciare il mio successore e chissà di cui si sarà saggio stolto oppure potrà disporre di tutto il mio lavoro in cui ho speso fatica e intelligenza sotto il sole e anche questa è vanità quindi capite qui dice ma io adesso ho pulito tutta roba qui che faccio con la porto al cimitero? no andrà nelle mani dei miei successori e questi se la gente che se lo merita non se lo merita sarà solo sarà saggio sarà stolto pensiamo anche fuori di contesto quando una persona magari anche di animo buono si preoccupa di accumulare un patrimonio da lasciare agli eredi purtroppo spesso e non volentieri ma a suo malgrado apre le porte ai futuri litigi perché la litigiosità per motivi economici dettati dalla volontà di accaparrarsi il più possibile da questo aspetto della vita umana quindi appunto l'ereditare i beni di chi li ha avuti è è ovvio e siamo sicuri che questa sia la cosa migliore dice in ogni caso supponiamo anche che gli arrivano questi beni prosegue chissà se questi sarà saggio o stolto eppure potrà disporre di tutto il mio lavoro in cui ho speso fatica intelligente sotto il sole anche questo è vanità ecco questo è un po' una sintesi del secondo capitolo c'è però più avanti un riferimento anche a ad altro leggo leggo chi ha lavorato con sapienza e con scienza e con successo dovrà poi lasciare il suo bene ad un altro che non via per nulla faticato anche questa è vanità grande sventura allora quale profitto c'è per l'uomo in tutta la sua fatica e in tutto l'affanno del suo cuore con cui si affatica sotto il sole se tutti i suoi giorni non sono che dolori e preoccupazioni penose il suo cuore non riposa neppure di notte anche questa è vanità questo può succedere anche se nel nuovo testamento dico che chi ha una fede bella radicata simile a quella che sposta delle montagne non è molto soggetto a questa cosa però tutti i suoi giorni non sono che dolori e preoccupazioni penose è inevitabile che andiamo incontro a questo sono sempre quelle giornate in cui cominciano bene e poi arriva la notizia destabilizzante oppure la notizia pur senza essere destabilizzata abbastanza pesante quindi chiarimenta un dolore o una preoccupazione ah dinanzi a questo non c'è niente di meglio per l'uomo che mangiare e bere e godersi della sua fatica ma mi sono accorto che anche questo viene dalle mani di Dio e qui a mio avviso c'è una un mistero no? o meglio una chiara prefigurazione non c'è bisogno di un luogo che mangiare e di bere sappiamo bene che mangiare e bere in maniera sprocedata integra il vizio capitale della temperanza però è anche vero che mangiare e bere qui mi rivolgo principalmente ma non solo perché tanto ci vuole due minuti per capirlo a chi conosce un pochino della divina volontà sono cose che possono essere immediatamente messe in correlazione perché mangiare per noi uomini non è soltanto riempire la pancia come per gli esseri animali e quindi se è qualcosa di buono si gustarlo barbaramente così no nel mangiare e nella varietà delle cose e dei sapori che mangiamo sono davvero tanti c'è un riflesso dell'amore di Dio che ha creato tante queste cose per noi perché nonostante il peccato originale ne godessimo ovviamente con una certa moderazione e qui è compito del coelet di insegnare l'uso retto e corretto delle virtù e delle cose di questa vita ancora Dio concede versetto 26 a chi gli è gradito sapienza scienza e gioia mentre al peccatore dà la pena di raccogliere e di ammassare per colui che è gradito Dio ma anche questa è vanità per inseguire il vento quando un qualche cosa un oracolo sta scritto nella sagra scrittura piaccia o non piaccia metta agitazione o no questa cosa si compie perché nella Libia la differenza che dei nostri bei libri ecco umani anche i miei quindi qui le nostre parole umane possono essere per carità speriamo edificanti che sono state scritte in un certo modo con un certo fine su un certo argomento però rimane il fatto che questa parola che si compirà che si compie ininterrottamente cioè che a chi gli è gradito concede sapienza scienza e gioia attenzione eh e attenzione non è che chi gli è gradito nostro signore va a casaccio dice vabbè questo me sta simpatico quest'altro quest'antipatico questo me sta simpatico quest'altro quest'antipatico allora abbiamo fatto la lista degli antipatici e dei simpatici diamo conoscere diamo grazie sapienza scienza e gioia no? ecco non è proprio non è proprio così il termine i termini qui sono per quanto riguarda la sapienza aham questa è proprio la sapienza la sapienza per quanto riguarda la scienza c'è da'at che viene dal verbo iara che significa appunto conoscere e poi per quanto riguarda la gioia c'è proprio il termine ebraico stoicitico per gioia che è simchà quindi sapienza la sapienza la sapienza forse è il caso di dirlo con questo versetto stiamo facendo i derivi sapienziari la sapienza è la capacità di vedere le cose come le vede Dio di il senso ultimo la relazione che c'è tra la cosa e il creatore la relazione che c'è tra il creatore e la creatura eccetera ecco la scienza è scienza cioè anche che sia con più di qualche distingo con l'accezione con cui viene adoperata nel linguaggio comune perché scienza è semplicemente acquisizione di informazioni di conoscenze che nel caso di conoscenze generiche vabbè possono anche essere gestite in noi in un certo modo nel caso invece di di conoscenze tecniche o specifiche di qualche argomento richiedono l'impegno dello studio sapere tante cose vuol dire il signore le concede però non pensiamo che le concede facendole piovere dal cielo non non funziona sempre così quindi la scienza eh i nostri congenitori avevano una scienza infusa adesso la scienza infusa ahimè eh ci può essere ma non possiamo ritenere che sia l'ordinarietà di ciò che Dio concede alle sue criature no? quindi quindi è gioia però e chi è che è gradito a Dio? lo troviamo nel capitolo 9 del Pongelo di San Giovanni sul seconato no? dove il seconato dice questo mi ha reso la vista che io non ci vedo dalla nascita ma come ha fatto? dico eh come ha fatto? eh mi ha fatto il fango mi ha messo mi ha aperto mi ha aperto gli occhi ecco dice ecco dice quando gli dicono ma questo è un peccatore dice ma dice ma noi sappiamo che chi è gradito a Dio e pratica la giustizia Dio poi lo ascolta quindi lo facciamo dire queste cose la gioia la gioia profonda deriva proprio dalla dalla vita di grazia dalla consapevolezza di ehm di di trovarsi dalla dalla parte giusta ma è anche una disposizione che questa si 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 va componendo nell'anima e si va stabilizzando nella misura in cui rimaniamo fissi nella volontà di Dio essere graditi significa fondamentalmente fare quello che Dio vuole questi sono le persone che sono gradite al Signore poi c'è il famoso terzo capitolo del Quaret è diventato molto molto famoso nel corso della storia che è quello dedicato alla vanità delle vanità tutto è vanità per ogni cosa c'è il suo tempo c'è il suo momento il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo attenzione eh eh questo è un passaggio fondamentale questo qui il tempo il tempo è una dimensione costitutiva del nostro essere e del nostro agire e fare una cosa fuori tempo vuol dire fare un guaio anche se quella è una cosa santa e giusta vogliamo una dimostrazione facile facile di che cosa significa pensiamo alla relazione sessuale tra due persone in relazione al prima o dopo il matrimonio fuori del del matrimonio la relazione sessuale è una ok non è che ce ne stanno vabbè vorrebbero che ce ne fossero di più ma fondamentalmente è una quindi però se tu sbagli il tempo quindi fai le cose prima del tempo è quella cosa non è fuoriera di di bene di santificazione no è il peccato mortale e ti espone a tutti i mali conseguenti al peccato grave che non li conosciamo tutti nei dettagli ma li conosciamo diciamo in termini concettuali ma questo non vuol dire che non siano reali chi sta seguendo tra chi segue queste catechesi e quello che sto facendo in quest'anno ripetire 2024 che è il parallelo e il ciclo di catechesi su su gloria polo lì per esempio ci sono dei passaggi nell'ultima lezione del testo che sto leggendo molto molto interessanti nel senso che si fa vedere qual è la relazione che c'è tra un peccato ovviamente ispirato da satana e poi alcune cose brutte molto brutte che accadono nella vita quella chiaramente ha avuto delle rivelazioni perché noi non siamo in grado di fare una cosa di questo genere come dire nel dettaglio dice ah c'è stato questo incidente ah ma questo arrivava dal latte impuro solidario che ho fatto l'altro giorno adesso sto semplificando no? io non so dare questa risposta però queste cose vanno prese sul serio questo versetto l'ho preso veramente sul serio eh perché concede a chi gli è gradito quindi sapienza scienza gioia abbiamo già visto no? quindi possiamo evidentemente passare a a ulteriori spunti di meditazione abbiamo per esempio più avanti la vanità del denaro ma sempre nel capitolo terzo come ci ricordano le slides che adesso chissà dietro non possiamo ancora darle perché c'è la Bibbia dopo la rassegna dei tempi un tempo per pregare un tempo per eh per aiutare un tempo per costruire un tempo per demolire un tempo per guarire un tempo per piangere un tempo per ridere un tempo per gemere un tempo per ballare un tempo per cercare un tempo per perdere un tempo per stare un tempo per buttare via eccetera un tempo per amare un tempo per odiare un tempo per la guerra un tempo per la pace qui amici cari si aprirebbero orizzonti esegetico meditativi assolutamente estesi grandi no però molte di queste cose siano poi oggetto della nostra preghiera della nostra personale meditazione faccio semplicemente la cassa di risonanza e l'evidenziatore ecco di qualche di qualche passaggio la dimensione tempo è una cosa fondamentale non vorrei dilungarmi troppo però sapete un consiglio generale dei maestri di spirito se una persona sta alterata per esempio dall'ira non è certamente quello motivo opportuno per andare a fare molto opportuno nella favorezione fraterna perché in quel momento quello non ti sta a sentire altra cosa il suggerimento generale dei maestri di spirito nei momenti di grande travaglio interiore quindi quando si è sotto stress si è sotto pressione si è sotto prova il cibo generale dicono non fare nessun cambiamento interiore rispetto a quello che fino ad oggi è stata la tua vita spirituale non almeno dall'oggi al domani specialmente quando si tratta di riduzioni o di peggioramenti no ecco bellissimo poi il versetto est 10 12 no ho considerato l'occupazione che ti ho dato agli uomini perché si occupino in essa egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo ma egli ha messo la nozione dell'eternità nel loro cuore senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta da dio dal principio alla fine questo è un altro versetto da incorniciare da mettere in bella evidenza nelle nostre case nei nostri ambienti più cari fatto bella ogni cosa a suo tempo a suo tempo però ha messo la nozione dell'eternità nel nostro cuore quindi ecco perché come diceva sant'acostino il nostro cuore non trova pace fino a quando non riposa ed ecco perché pure tutti i beni possibili e immaginabili nella tua vita mancherebbe sempre qualcosa sempre e poi quindi volta la nozione dell'eternità nel nostro cuore ce l'abbiamo ma noi non possiamo capire questo mettiamolo bene in testa l'opera compiuta da dio dal principio alla fine ora il fatto di non poterlo capire non dipende dal fatto qui l'abbiamo visto nell'altro ciclo ancora di catechesi il mistero dell'uomo che dio faccia delle scelte completamente arbitrarie e l'uomo si trova quindi così dice beh io questo non capisco però ma devo l'ha fatto l'altissimo altissimo fa quello che vuole non è tenuto certamente a rendere conto a noi di quello che fa però attenzione a non avere una visione ecco calvinista o camiana dell'operato di dio cioè dio non fa le cose così con un atto di volontà come dire non vorrei trattandosi di volontà divino non vorrei usare un termine non adatto un atto di volontà arbitrale a questo sì a quello no perché 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 mi va bene così questo dio non lo fa a quanto ci è dato di comprendere ovviamente sempre nella dimensione della fallibilità c'è sempre una logica nella nella gira dell'altissimo rivedremo tutte però queste cose numero uno dio la riserva a altra vita noi non possiamo e non dobbiamo andare in questa vita a cercare informazioni che poi arrivano quasi tutte attraverso fonti come dire non verificate nel senso di tutto quanto il ciò che si tiene che gira intorno al mondo delle cosiddette rivelazioni io stesso insomma ho come dire si si capisce che alcune di esse le ritengo autentiche però è un ritenere soggettivo la cosa più importante però non è tanto quello che dice il santo il mistico di turno sul problema è quello che tu come dire l'idea che tu se comincia ad avere un buon rapporto con dio gradualmente te ne vai facendo ora noi non possiamo capire l'opera compiuta da dio non perché quella è un'opera razionale quindi diceva è un assurdo come scrivono gli autori protestanti no anche se non ricordo male sono dei passaggi molto belli di kirkegaard che scrive queste cose no no dio non fa cose assurde dio fa cose che sono al di là della nostra portata con questo per questo sì per noi l'uomo più intelligente della terra che sì che siamo è stato detta dei diavoli in qualche esorcismo che ho letto non mi ricordo la fonte di queste cose parlano e come cioè non c'è dio non è irragionevole affatto dio sta sopra sopra la nostra ragione non ripeto non mai incontro perché dio è ragionevolezza assoluta sappiamo che la seconda persona dell'antistica dell'italia è il logos come dice san giovanni quel logos che tutti filosofi hanno sempre cercato il principio unificatore quindi ecco ho concluso che non c'è nulla di meglio qui ci sono quei quei passaggi un po' lasciano un po no è un po sul sul pessimismo e sul ripiegamento dice vabbè non riesco a capire fino in fondo le opere di dio e attenzione stavo accennando noi non dobbiamo desiderare di andarle a violare ci sono delle pratiche che sono che possono essere esattamente in questo il tentativo di violare la conoscenza del futuro non si fanno è peccato mortale però attenzione questa è una cosa che io dico c'è anche la smania non posso andare dal mago a farmi a farmi vedere il futuro anche se mi piacerebbe pensare è comunque un italiano su tre ogni anno ci va dal mago è quindi queste sono statistiche conclamate il mago però mi comincia a rivolgere ad una serie di fonti che ce ne sono quante ne vogliamo appunto per andare a cercare contenuti profetici in senso stretto quindi voi mi interessa sapere cosa accadrà nel futuro e quando accadrà sono esattamente le cose che dio vuole che noi sappiamo ed è uno a mio personale avviso poi per sbagliarmi dei motivi per cui per esempio libri apocalittici il profeta daniele ma libro stesso dell'apocalissime l'ho scritto con un linguaggio così criptico che quasi nessuno anche tra i grandi interpreti è riuscito da capire a tirarci fuori qualche cosa di di particolarmente edificante perché sono passaggi scuri no più amici il tempo corre stiamo andando verso la vediamo qualche altro brano scelto però ripeto ci andremo poi a a sbizzarrire personalmente ecco più avanti tutti sono diretti verso la medesima dimora tutta che uno dalla polvere e tutto ritorna nella polvere ricorda qualcosa questa espressione c'è una volta l'anno in cui questa sentenza ci viene fatta vivere attraverso il gesto rituale molto importante dell'imposizione delle sacre ceneri no che tra l'altro proprio in ingratino usa i stessi termini no pulviseris pulviseriverteris e rivolvere e polvere ritornerai ecco ora qualche altra espressione in questo in questi ultimi minuti che ci attendono prima della fine abbiamo ancora quarto d'ora scarsa ma andiamo a vedere qualcosa sulle chiacchiere e a vedere la cosa sulle chiacchiere e sui voti facciamo un piccolo jump avanti e al capitolo 5 non essere precipitoso con la bocca il tuo cuore non si affritti a proferire parola davanti a dio perché dio è in cielo e tu sei sulla terra perciò le tue parole siano parche poiché dalle molte preoccupazioni vengono i sogni attenzione dalle molte chiacchiere il discorso dello stolto vedete la sapienza no questi sono classici proprio detti sapienziali numero uno non essere precipitoso con la tua bocca e il tuo cuore non si affritti a proferire parola davanti a dio letteralmente l'ifne significa davanti al volto di dio quindi nella consapevolezza che dio ascolta quindi qui certamente parola davanti a dio si può intendere anche in senso come dire letterale no però il senso letterale vuol dire quando mi trovo alla presenza di dio devo stare attento a quello che dico sì bellissimo però c'è anche considerazione alla faccia di dio ci siamo sempre ecco tutto il tema della 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 parola i peccati di parola pensiamo alla lettera di san giacomo vostro le cose che dice sui peccati di lingua eccetera anche gesù la bocca parla dalla pienezza del cuore dalla da da quello che dice con la bocca sarai giudicato eccetera eccetera no non c'è se non c'è parola inutile di cui non sarà chiesto conto agli uomini al giorno del giudizio eccetera quindi ecco in genere generalmente i maestri di spirito hanno sempre suggerito di essere parchi nell'uso della parola non sperdersi molte chiacchiere perché appunto dare molte chiacchiere che era il discorso dello storto poi quando è fatto un voto a dio il voto non indugere a soddisfarlo perché gli non ama gli stolti adempi quello che è promesso questo è importantissimo questo qui è meglio non far voti che farli e poi non mantenerli voti sono le promesse fatti a dio non indugere a soddisfarlo perché gli non ama gli stolti stolto è anche chi va a fare un voto precipitoso che si mette in difficoltà da solo troppo oneroso da osservare e poi è potente andare per forza a chiedere la dispensa alla verità ecclesiastica che si può fare però piuttosto che andare a fare una cosa del genere qui è meglio non farlo proprio se tu non sei grado di mantenere o quantomeno se si fanno queste cose fare delle cose piccole piccole non troppo impegnative piccole non sacrifici troppo grandi magari non a tempo indeterminato però pare devi mantenere le promesse fatte a dio io ho citato recentemente in qualche incontro chi non manterrà le promesse fatte a dio non troverà mai pace diceva la piccola giacinta di Fatima ma allora come faccio io ho fatto questo ho fatto quell'altro dico tanto perché devi fare se sei fatto in imprudenza fate dalla dispensa però in futuro si è più attento così più attento più consono a non andare a fare azioni sconsiderate andiamo a vedere qualche altra cosa allora abbiamo visto le chiacchiere ora facciamo un jump bello grosso perché prima di chiudere andiamo a vedere appunto le fasi conclusive del libro prima di chiudere il conto di questa sera vediamo al versetto 12 i versetti 1-8 ricorda il tuo creatore nel giorno della tua giovinezza prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni in cui dovrei dire non ci provo alcun gusto prima che si scuri il sole eccetera eccetera non si chiuderanno le porte delle strade quando si abbasserà il rumore della mola scusate il rumore della mola e si affioriranno tutti i toni del canto eccetera no via che si rompa il cordone e ritorni la polvere versetto 7 alla terra come era prima e lo spirito torna a Dio che l'ha creato vanità delle vanità dice Quele tutto è vanità quindi Dio non si dimentica nella giovinezza le cattive abitudini di quelli che fanno una crisi ma poi spariscono cosa oggi come dire almeno in Italia è generalizzata salvo rarissime eccezioni nella quasi totalità dei casi e mi tengo appunto ottimisticamente approssimando non per eccesso ma per difetto quindi speriamo che la realtà sia meno impegnativa però questo questo è l'ultima notazione da fare prima di vedere è proprio andare a fare un jump alla conclusione no che è appunto il capitolo dodicesimo no allora conclusione del discorso dopo che si è ascoltato ogni cosa temi Dio e osserva i suoi comandamenti perché questo per l'uomo è tutto guardate che bello temi Dio che osserva i suoi comandamenti e osserva i suoi comandamenti e osserva i suoi comandamenti più che temi Dio qui il senso diciamo proprio letterale è orsu ascoltiamo Dio quindi ascoltiamo però con quella sfumatura tipica del dello schema in 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 perché questo per l'uomo è tutto infatti Dio ci darà in giudizio ogni azione e tutto ciò che è buco che è occulto bene o male ok ecco questa è un po' la presentazione sintetica di questo splendido libretto che deve come compito ripeto quello di mostrarci la vanità delle cose terrene anche contratti un pochino mamma mia però ne abbiamo messi ma si trovano nella parte centrale e farci venire al tempo stesso questo grande residuo della sapienza quindi cominciare ad investire in tempo energia per poter appunto acquistare il dono dei doni nella consapevolezza che angelica stiamo sentendo in questo tempo un po' escatologico la consapevolezza che dovremo tutti ritrovarci dinanzi al signore per rendere conto dei talenti che abbiamo ricevuto la vita il tempo escatologico che adesso tra poco lo ricominceremo a a vivere nella liturgia attraverso il tempo dell'avvento ma in realtà tutta l'esistenza dell'essere umano ha un afflato escatologico che tende verso le cose ultime sa che deve presentarsi dinanzi al signore e che la sua sorte definitiva non è in questo mondo è altrove però la sorte che abbiamo altrove noi ce la prepariamo giorno per giorno qui in base a quello che facciamo qui quindi amici mi raccomando leggiamo insieme leggiamo leggiamo il libro del 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 terreno fino a se stessi per essere poi elevati la prossima volta il cantico dei canti c'è il canto dell'amore quindi descrive lo stadio adulto più che adulto formato ecco della della vita di di fede e della vita di preghiera ma di questo guardiamo se ti guardo non sia molto Dio vi benedica amici e la santa vergine sempre vi protegga grazie a tutti